Si continua a parlare di Tartarughe Ninja della IDW, edito in Italia da Panini, parliamo del numero 3 e si entra finalmente nel vivo. Wabalabadabdabe, bentornati su Namamazzo, bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja e da un po' che ormai stiamo recuperando le vecchie storie, quelle che da noi in Italia sono uscite nel 2013. Sono partito in contemporanea parlando del numero 50, di cui finalmente siamo arrivati dopo anni anche in Italia. Ovviamente è la numerazione italiana di questa collana, in America sono molto oltre e siamo anche sempre indietro di un paio d'anni. Però per, diciamo, metterci un attimino in pari, soprattutto alla luce del fatto che queste Tartarughe Ninja non sono conosciute da molte persone, vorrei parlare con voi pian pianino di ogni singolo numero, in modo che se ve lo siete perso e non riuscite a recuperarlo, quantomeno vi dico un po' la storia, come sta procedendo, com'è proceduta fino adesso, se poi volete ricominciare a comprare questo numero in libreria e fumetteria. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano le Tartarughe Ninja e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di quello che sto raccontandovi o di questo numero, se lo avete letto. Allora, finalmente qua si iniziano a spiegare le altre origini di queste Tartarughe Ninja. Come vi ho detto negli altri due miei video in cui parlavo dei primi due numeri, dove hanno cambiato le origini in questo reboot e non mi piacciono molto perché non sono Tartarughe Ninja mutate 15 anni fa, ma sono Tartarughe Ninja mutate 15 mesi fa che hanno già l'aspetto di adolescenti. E allora perché le chiamano Teenage Mutant Ninja Turtles? Però, come vi ho detto, Splinter sa qualcosa che noi non sappiamo. Qua sta praticamente raccontando la storia di Amato Yoshi e Oroku Saki e la fa in contemporanea alle azioni che sta compiendo nel presente. Vediamo che sia nel passato che nel presente vediamo un padre che sta cercando di approvvigionare dei doni per i propri figli. Ma il passato non è il passato che noi pensiamo. Non sto parlando di 15 anni fa in Giappone, ma di 300, 400 anni fa nel Giappone feudale. Ebbene sì, in questo universo Amato Yoshi e Oroku Saki sono due nemici mortali da un sacco di secoli. Ci mostrano come la storia che sappiamo tutti, che hanno riscritto in mille varianti, però ecco quella che sappiamo che Amato Yoshi si è ribellato in un certo senso a Oroku Saki. In questo caso Oroku Saki era già il leader del clan del piede e Amato Yoshi era uno dei suoi sottoposti, ma al cambiamento nello stile di Oroku Saki nell'agire secondo le regole del clan Amato Yoshi si è ribellato. Amato Yoshi non voleva stare in un clan dove Oroku Saki trucidava degli innocenti. Questo ribellarsi è stato visto come gran tradimento da Oroku Saki e dato che Oroku Saki è un figlio di puttana perché aveva appena detto di trucidare degli innocenti, cosa vuole fare? Vuole trucidare Amato Yoshi, sua moglie Tang Shen che hanno nominato anche nel film del 1990 e che viene proprio dall'originale dei fumetti dell'84, in questo caso però è la moglie di Amato Yoshi e i loro quattro figli. L'impresa riesce a metà perché i ninja riescono a uccidere solo Tang Shen, ma sul letto di morte Tang Shen fa promettere a suo marito Amato Yoshi di non cercare vendetta ma di fuggire con i propri figli che sono ancora piccolini. Vediamo appunto che gli anni passano, Amato Yoshi mantiene la promessa e cresce quattro ragazzi adolescenti per una decina d'anni e per una decina d'anni vivono in pace finché purtroppo Oroku Saki con il suo clan del piede riesce a scovarli e a trucidarli tutti in questa occasione Amato Yoshi fa una richiesta, fa una preghiera, prega gli dèi, prega Buddha qua c'è scritto anche se vabbè non funziona proprio così la religione buddista ma fa niente comunque esprime il forte desiderio di ritrovarsi di nuovo faccia a faccia con Oroku Saki da pari a pari, da guerriero a guerriero e non lui con un esercito e lui legato e imbavagliato con i quattro figli trucidati gli davanti. Quindi ha espresso questo desiderio agli dèi e pare a quanto si è capito non l'hanno ancora detto apertamente ma pare a quanto si è capito che questa cosa si è manifestata nella mutazione che abbiamo assistito un paio di numeri fa. Quindi queste tartarughe mutate 15 mesi or sono da un mutageno che il generale Krang ha dato alla stockgen di Baxter Stockman pare siano le reincarnazioni di quattro figli adolescenti uccisi nel Giappone feudale da Oroku Saki e il loro padre niente po' di meno che il ratto Splinter. Quindi diciamo che se non amate le origini metafisiche di questo numero vi salvano comunque le origini scientifiche che abbiamo visto nei primi due numeri e se invece non vi piacciono le origini scientifiche che abbiamo visto nei primi due numeri perché sono troppo recenti come come a me non piacciono vi potrebbero salvare queste origini metafisiche. Come vi avevo detto negli altri numeri tutte e quattro le tartarughe ninja indossano una bandana rossa esattamente come era nel fumetto del 1984 prima che il cartone le rese popolari e distinte per distinguerle meglio per i bambini e per vendere più giocattoli ovviamente qua hanno ancora tutta la bandana rossa ma qua finalmente assistiamo al cambiamento vediamo che Splinter torna alla base delle tartarughe con dei doni e i doni sono proprio le bandane di colore diverso arancio per Michelangelo viola per Donatello blu per Leonardo e ovviamente rosso per Raffaello che non aveva una bandana perché era il fratello sperduto negli altri numeri il fratello che si era smarrito l'hanno ritrovato e gli hanno donato la bandana del colore che portavano gli altri fratelli proprio in sua in suo ricordo in sua memoria perché il rosso era il colore preferito di Raffaello ma come fai padre a sapere che il colore preferito di Raffaello era rosso come fai a sapere che i nostri colori preferiti sono questi e figlioli ve lo spiegherò e qua si deduce si evince che sono proprio la rincarnazione di questi personaggi del Giappone feudale che noi avevamo già conosciuto in altri salse ovviamente ci mostrano come oltre alla bandana rossa a Raffaello donano finalmente anche le sue armi i sai gli altri tartarughe ovviamente avevano già le proprie armi perché sono state qualche mese in allenamento da sole e anche qua spiegano come mai sono così erudite nel combattimento perché appunto essendo delle reincarnazioni è come se stessero semplicemente rispolverando dei ricordi soppiti di qualcosa in cui loro erano già molto esperti di qualcosa in cui loro padre già gli istruiva da anni e quindi diciamo che non so se perché avevano ottenuto uno scarso successo le scorse origini ma hanno cercato di aggiustare il tiro in questo modo ma voi direte ma quindi se Rokusaki era vivo nel Giappone feudale adesso è morto da un pezzo è morto sepolto giusto lo vedremo nei prossimi numeri nel frattempo vediamo qualche tavola in cui Casey Jones si sente molto solo il padre lo avevamo già visto è un alcolista e lo picchia la madre è morta dopo una lunga malattia di cancro e quindi Casey Jones si ritrova solo con la promessa anche lui che ha fatto la propria madre di non litigare con il proprio padre quindi sta a prendersi le botte del padre ubriaco vediamo April O'Neil che torna a casa dall'università o dal non ho capito da dove penso dalla comunque dalla scuola e abbraccia sua madre quindi c'è questo finale natalizio in cui tutti sono in qualche modo legati alla famiglia Casey Jones ovviamente porta una rosa sulla tomba della madre e April O'Neil abbraccia la sua un fumetto davvero bello davvero bello qua si entra nel vivo questa era la prima storia nella seconda storia appunto come vi ho detto Raffaello era il fratello perduto il fratello che era stato proprio smarrito nell'atto della mutazione quindi ha passato molto tempo da solo come quasi a giustificare il carattere un po' indipendente di Raffaello rispetto agli altri fratelli qui vediamo che questo tipo di carattere questo tipo di solitudine di stare in solitaria è dato anche da questo distacco originale vediamo che appunto come dice lui stesso il mercoledì appuntamento fisso con Casey Jones quindi con Casey Jones si ritrovano per fare i vigilantes nella parte di città di Casey Jones abbiamo anche una fantastica comparsata che io non ricordavo quindi rileggendo questo numero per fare il video sono stato travolto dalle emozioni come la prima volta una comparsa di Rocksteady e Bebop ovviamente premutazione vediamo la cresta viola di Bebop e il cappellaccio da aviatore di Rocksteady e di come compaia anche per la prima volta Alopex un altro personaggio che c'era nei fumetti anni 90 ci mostrano un po' le origini di Alopex non sappiamo se sono vere o se sono false perché Alopex in realtà è una stronza quindi sta facendo il doppio gioco con Raffaello che però ecco è la prima tartaruga che la incontra perché poi più avanti Raffaello e Alopex avranno una sorta di amicizia molto intima chiamiamola così sarà un rapporto molto particolare tra loro due esattamente come il rapporto che Raffaello ha con Casey Jones perché sono degli spiriti affini vediamo come Raffaello ami stare un po' da solo perché non è abituato ancora a stare in famiglia trova che i suoi fratelli siano molto chiacchieroni però li ammira tantissimo ha già capito i loro caratteri di come Michelangelo scherzi per mascherare il nervosismo di come Donatello sia molto pragmatico si assicura che dopo uno scontro i suoi fratelli stiano bene di come Leonardo elabori subito un piano strategico per i prossimi incontri di personaggi come Alopex vediamo il rispetto che Raffaello ha per Leonardo per il suo essere stratega ovviamente poi infrange quello che gli dice di fare perché è fatto così però è bello vedere come lo rispetti dal punto... come lo ammiri più che come lo rispetti per ora vediamo ancora Bebop e Rocksteady Alopex e già come Bebop e Rocksteady pare che siano al soldo del clan del piede e che si lamentino di essere dei semplici umani che vorrebbero essere potenziati anche loro essere mutati anche loro quindi vediamo subito questa... ci fanno già annusare questa possibile trasformazione di Bebop e Rocksteady che però vedremo molto 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 avanti ve lo dico già fatemi sapere voi cosa ve ne pare di questa storia se vi ha incuriosito, se vi ha entusiasmato devo dire che io adesso che ho letto il numero 3 sono molto felice, sono molto gasato di rileggere tutti i numeri che verranno per poterne parlare con voi quindi scrivetemi qua sotto voi cosa ne pensate se l'avete letto o se comunque vi ho incuriosito io come sempre con l'inchione e con l'embuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video grazie